E' di almeno 35 vittime e oltre 40 feriti il bilancio dell'attentato di questa mattina a Kabul in Afghanistan. Un'autobomba esplosa nella parte ovest della capitale, in un quartiere a maggioranza sciita, scagliandosi contro un autobus che trasportava dipendenti del Ministero delle Miniere. Al momento non è chiaro se si sia trattato di un attentato mirato contro il bus, ma i talebani hanno rivendicato l'azione attraverso un comunicato inviato al canale di informazione al Jazeera. Questo è l'ultimo di una serie di attacchi suicidi che hanno colpito l'Afghanistan. Dall'inizio dell'anno almeno 1.662 civili sono rimasti uccisi.